Piatto unico da portare all'aperto. Cipolla, peperoni, petto di pollo con salsa di soia, guarniamo il riso, aggiungiamo anche dei fagioli e del cavolo cappuccio rosso, che volendo possiamo far cambiare colore. Scegliete il vostro posto preferito, che può essere mare, montagna, piscina o lago, e gustatevi un pranzo delizioso.